Variante delle dips alle parallele per chi non riesce ancora a fare 5 dips consecutive Posizionati fra le parallele con le braccia semi estese il più vicino possibile al torso La band è attaccata alle parallele per creare un loop in mezzo dove appoggeremo le ginocchia per sfruttare la forte elastica della band in risalita Le mani sulle parallele sono in posizione neutra e i gomiti stretti Inspira e scendi allungando la band verso il basso Scendi fino a formare un angolo di 90 gradi con il braccio e l'avambraccio A questo punto espira e sfruttando la forte elastica della band riporta il busto verso l'alto Ripeti il movimento per il numero di 7 ripetizioni indicato